Eccoci amici, qualche pezzetto di campagna buono l'ho trovato. Queste sono le prime cose, non so che cosa sia, forse qualche moneta, se forse sono chiodi antichi, sono meglio di niente. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Vediamo. 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 Questo è un tappo, così ho chiesti acuti. Un strappo di lattina, vediamo c'è più avanti, c'è un altro, non so cosa siano, un bel pezzo di tempo ce l'hanno. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so. Non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so. Non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so. 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 Non so. Non so. Non so. Non so, non so. 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 ok ok a a a a a a pezzoli tubo Grazie a tutti. Grazie. 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 Qua c'è un sadrello. Grazie. 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 Secura. Grazie. ok 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 è stato un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.